Salve amici del Segreto, in questo video andremo a vedere le 10 regole che hanno contribuito a rendere Bill Gates uno degli uomini più ricchi del mondo. Fino a qualche anno fa era il più ricco, poi è stato sorpassato da Jeff Bezos, però ricordiamo anche che Gates è anche molto coinvolto nella beneficenza con la fondazione che gestisce insieme alla moglie. Un grandissimo uomo con grandi valori che investe molto in se stesso, in termini di sapere ma anche spiritualmente. Adesso vedremo come sia stato possibile per lui creare un impero come Microsoft attraverso alcuni semplici principi che tutti noi possiamo implementare nella nostra carriera, nei nostri affari e nelle nostre relazioni. Cominciamo subito. Numero uno, siate energici. Bisogna dare l'anima in quello che fate. Non si deve cominciare qualcosa svogliati perché la probabilità che si abbia successo con questo tipo di approccio è veramente bassissimo. L'energia è fondamentale, specialmente se volete essere indipendenti e creare qualcosa di vostro perché questo richiede molto lavoro e impegno. Essere stanchi in questo caso può determinare negativamente il vostro futuro. L'essere energici ha a che vedere con il vostro approccio mentale, ossia come guardate tutto, con quale ottica, se siete ottimisti oppure no, ma dipende anche dalla vostra condizione fisica, dalla vostra alimentazione, dall'attività fisica, eccetera. Se non vi sentite bene fisicamente può essere difficile sentirsi energici. Numero due, siate diversi. La scuola, la famiglia, la società in cui viviamo, tutte insieme cercano di formarci in modo uguale. Dobbiamo essere tutti uguali, andare a scuola, studiare, laurearci, trovare un lavoro e farlo fino ad andare in pensione. Se però guardiamo le persone che hanno maggiormente successo oggigiorno, noteremo che loro hanno qualcosa di unico rispetto alla normalità. Gates, ad esempio, decise di abbandonare i suoi studi a Harvard per concentrarsi sui propri progetti e prevalentemente su Microsoft. Questo la maggior parte delle persone potrebbe considerarlo un grande fallimento. Molti si scordano che Gates è stato comunque ammesso a Harvard. Già per essere ammessi in quelle università richiede qualità eccezionali, che Gates indubbiamente ha. Magari poteva raggiungere lo stesso obiettivo anche da laureato. Forse ci avrebbe messo di più a riuscirci. Chi lo sa. Quel che è importante capire è questo. Potete arrivare allo stesso punto percorrendo strade diverse. Scegliete la strada in cui credete. Non fate quello che fanno tutti gli altri. Specialmente se non volete fare la vita che gli altri fanno. Numero 3 Lavorare duramente. In qualsiasi campo voi vogliate avere successo, ricordatevi che serve duro lavoro. La gente tende a pregiudicare spesso coloro che hanno ottenuto tanto nella vita, ma di qualsiasi persona si tratti, se guardate i loro inizi, si tratta di grandi lavoratori. Persone che si davano anima e corpo a quello in cui credevano. Gates oggi si potrebbe anche permettersi di sdraiarsi in qualche spiaggia esotica per il resto della sua vita, perché lui ha già vinto. Ma lui comunque non lo fa perché non lavora per il denaro, ma per la passione che ha per quello che fa. Fatto sta che nei suoi inizi lui ha dovuto lavorare duramente. Parliamo di persone che lavoravano spesso anche 18-20 ore al giorno. Qualcosa di inimmaginabile, considerando che chi critica queste persone, nella maggior parte dei casi, non supera mai le 8 ore giornaliere. Numero 4. Avere grandi obiettivi. Bisogna avere grandi obiettivi in modo da poter crescere con gli obiettivi. Se l'obiettivo è quello di guadagnare 300 euro in più al mese, questo non vi porterà a darvi molto da fare, perché è un obiettivo che vi mantiene realisti. Se puntate a qualcosa di più grande, questo vi porterà necessariamente a fare di più e a diventare di più di quello che siete ora. Leggerete i libri che vi servono, imparerete le competenze che vi servono, migliorerete gli aspetti del vostro carattere che dovrete migliorare e diventerete la persona che dovrete diventare per raggiungere quell'obiettivo. Gates si presentò al mondo con Microsoft dicendo Sono qui per creare il vostro futuro. Questo dimostra la tipologia di obiettivi che lui si prefiggeva. Numero 5. Godetevi quello che fate. Non bisogna fare il calciatore o il banchiere perché si guadagna tanto, ma perché quella è la vostra passione. L'importante è guadagnare bene facendo quello che si ama fare e non guadagnare di più, ma odiare tutta la vita quello che si fa. Tutti noi abbiamo le nostre passioni, i nostri sogni e possiamo goderci la vita solo se cerchiamo di inseguire quei sogni. Numero 6. Giocate a Bridge Lui consiglia questo gioco perché dice che ti aiuta a pensare. Chi è bravo a giocare a quel gioco è capace di fare anche molto altro con grandi risultati. È un gioco nel quale potete migliorare continuamente durante la vita. Numero 7. Chiedete consigli alle persone che vi conoscono bene. Questo perché queste persone conoscono bene i vostri punti forti e i vostri punti deboli. Vogliono il vostro bene e sanno quali cose avete tralasciato durante una decisione presa. Numero 8. Scegliete le persone giuste. In questo mondo non viviamo da soli. Ci vogliono anche gli altri per formare un gruppo, una comunità, una nazione. In questo canale abbiamo spesso parlato del gruppo Mastermind, quello che Napoleon Hill chiama un gruppo dove tutti lavorano insieme, mettendo a disposizione tutti i loro talenti in modo incondizionato per raggiungere lo stesso obiettivo o per la causa comune. Le persone capaci le trovate, ma non potete crearle, non potete creare un buon manager per la vostra azienda. Potete trovare un buon manager per la vostra azienda, guardando appunto il suo curriculum, la sua personalità, eccetera. Se scegliete le persone giuste e le mettete al posto giusto, creare grandi imperi come quello di Gates diventa più facile. Numero 9. Non procrastinate. Fate le cose che dovete fare subito e mettendoci tutta la vostra forza, tutta la vostra concentrazione e tutta la vostra passione. Questo vale specialmente negli affari e nel lavoro. Gates, da studente, non frequentava le lezioni all'università e non studiava fino agli ultimi due giorni. Lui dice, gli ultimi due giorni mi impegnavo tanto e superavo poi l'esame. La gente era sbalordita da questa mia capacità e mi elogiava per questo. Negli affari, però, si rivelò essere un bruttissimo vizio, che lui dovette ovviamente cambiare in fretta. Numero 10. Avere il senso dell'umorismo. Questo è fondamentale per la vostra inclusione nel vostro gruppo di amici, nel gruppo del lavoro, nella vostra famiglia, eccetera. Serve ovviamente anche il limite giusto. Non si può fare il pagliaccio per 24 ore, perché così rischieremmo di non essere presi sul serio. Spesso però una battuta aiuta a migliorare il clima e anche a riportare la giusta attenzione di tutti verso il lavoro che svolgiamo. Queste erano alcune delle regole che hanno contribuito a rendere Bill Gates quello che lui oggi rappresenta nel mondo. Sono dei principi che la maggior parte delle persone può considerare sbagliati e forse questo è uno dei motivi per cui lui è così unico nel suo modo di fare e di essere. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao! Ciao!